Mi hai portato di buono dalla campagna? Abbacchi, polli, zucca, lattuga, ravanelli, il cicorione, i cipolloni rossi, i capoli, tutto mi ho portato! E tutto mi devi portare! E tutto mi... 26 qui e 4 di qui, 30 minuti! Ecco qua! Eccoli! Buongiorno figli miei! Dormito bene? E sono i belli!